Visto il grande successo di critica e di pubblico, Steve Jobs, 1955-2011, l'approfondimento culturale dedicato all'imprenditore californiano, inventore e cofondatore di Apple e allestito presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, è stato prorogato fino al 15 aprile 2012. La mostra, organizzata dall'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte e dal gruppo torinese BasicNet, che possiede una delle più complete collezioni al mondo di personal computer e storia dell'informatica, ha registrato infatti un grande successo. Dal primo dicembre a oggi i visitatori sono stati circa 25.000, con una media di 800 presenze giornaliere durante il periodo natalizio. Questa mostra è sicuramente un omaggio a Steve Jobs, è un omaggio secondo me che Steve Jobs fa a noi più che altro, perché è un omaggio alla contemporaneità di fare impresa, al modo moderno, giovane, creativo, trasgressivo, artistico di fare gli imprenditori, senza per questo limitare la portata delle ambizioni, cioè tutto questo per fare l'azienda più grande del mondo. Quindi è un grande, diciamo io spero, incoraggiamento per i giovani, perché ce la si può fare. Pezzo forte della mostra, ormai rarissimo Apple One, primo computer creato da Steve Jobs e dal socio Steve Wozniak nel 1976, che il presidente di Mesignet, Marco Boglione, sia giudicato da Cristis per 157.000 euro nel novembre 2010. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 15 aprile, da lunedì a domenica con orario 10.19, chiusa il martedì. Visite guidate per gruppi scolareschi e laboratori didattici su prenotazione.